In evidenza L'istituzione di un tavolo di concertazione per la revisione della legge regionale statutaria proposta dall'Ufficio di Presidenza e decisa dal Capigruppo verrà sottoposta all'Assemblea. Sentiamo il Presidente del Consiglio regionale, Valerio Cattaneo. La conferenza del Capigruppo, su mia proposta, ha condiviso l'iniziativa dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, quindi istituiremo un tavolo dove siederanno tutti i Capigruppo, l'Ufficio di Presidenza e alcuni consiglieri, col quale sostanzialmente verificare e trovare delle convergenze sulla riduzione del numero dei consiglieri, su una nuova legge elettorale e anche fare un ulteriore passo, diciamo un po' lo terzo step, sulla riduzione dei costi, diciamo, in Consiglio regionale, in particolare dei costi della politica.